Presso il prefabbricato di via Peruzza, a Torre di Pordenone, è stato inaugurato il nuovo anno scolastico. Il sindaco Alessandro Ciriani, l'assessore alla cultura Alberto Parigi e il consigliere regionale Alessandro Basso hanno portato il saluto ai bambini della scuola primaria Narvesa, qui ospitati per permettere i lavori di messa in sicurezza dell'edificio di via Fonda. Presenti anche il dirigente scolastico Vladimiro Giacomello e Don Marino Rossi, che ha provveduto a benedire il nuovo locale, che ospiterà 258 alunni, suddivisi in 12 classi. Il comune di Pordenone non poteva che iniziare da qui per inaugurare e salutare il nuovo anno scolastico. Un prefabbricato che viene incontro agli alunni e gli insegnanti, il personale scolastico della Narvesa, che è in riparazioni, importanti riparazioni antisismiche. Questa è stata per gli uffici della scuola, del comune e dell'edilizia la priorità delle priorità. Le priorità sono tante, ma questa è in assoluto la prima. Tra l'altro è anche la soluzione migliore possibile, noi le abbiamo vagliate tutte. Questa è una soluzione che dal punto di vista logistica, dei costi, dell'organizzazione e delle tempistiche, volevamo che gli alunni arrivassero qui il primo giorno scolastico, si è rivelata la migliore possibile. Il prefabbricato di via Peruzza, che è stra in piedi per tre anni, ospitando a rotazione tre scuole, è il simbolo dell'impegno del comune nei confronti del mondo della scuola. C'è quello di voler ricostruire scuole nuove, moderne, efficienti, energeticamente, sicure, antisismiche, confortevoli e adeguate ai bisogni degli insegnanti e anche degli alunni. Questo quadro, che prevede, ripeto, numerosissimi interventi nei plessi scolastici, si scontra però con una realtà che ha dei profili drammatici. Quello dell'aumento delle bollette, che incide pesantemente solo in parere sulle famiglie, ma anche sui comuni, praticamente ha raddoppiati i costi. Se si dovesse replicare la stessa identica situazione nel 2023, i comuni dovrebbero tagliare tutto e quindi tagliare anche i servizi nei confronti della comunità. Ecco perché il nostro grido di aiuto è nei confronti della politica del Governo nazionale, che deve intervenire rapidamente. Serve una risposta nazionale ed europea per consentire ai municipi di poter continuare con i servizi nei confronti della collettività. Oggi, poi, c'è un altro problema. Accanto alle bollette, l'aumento alle materie prime, che rischia di bloccare i cantieri. Ci sono degli interventi di sostegno da parte dello Stato e della Regione, ma noi temiamo che siano insufficienti. Anche qui una revisione del PNRR per consentire di evitare di perdere i soldi che i comuni hanno intercettato e dare le risposte anche dal punto di vista edilizio ai bisogni della collettività.